Io ho sempre pensato che i genitori potrebbero essere un ricchimento per i figli e potrebbero arruinare i figli stessi. Io ho cercato di crescere come poteva, in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho parlato di prima, non so che volte, prima che abbiamo fatto, facciamo così, facciamo così. Tu che ne pensi? Che vogliamo fare? Come ci abbiamo organizzato? Oggi il Gennaro mi ha fatto grosso. Patrizio non ha mai fatto la fine. E' bene che c'è da Patrizio, secondo me il Gennaro è sbagliato. E io penso che il Gennaro è da papà come ci pavate io e come pavamo tutto quanto. Ma Patrizio l'ha da difendere, dice che è da Patrizio, difendemi il Gennaro. E' la stessa cosa che fa Gennaro per Patrizio. E quindi a Gennaro non lo posso mai perdonare per quello che ha fatto. Figli e buoni, sicuramente figli. Gennaro è sbagliato. E se Gesù Cristo esiste, Gennaro è da papà.